Buongiorno a tutti ragazzi, siamo arrivati al capitolo 21, la resa dei conti, praticamente alla fine di questo magnifico gioco. Abbiamo rimasto Salli indietro ad ammazzare gli spagnoli trasformati dal virus contenuto all'interno della statua del tesoro di El Dorado, quindi Salli li sta uccidendo insieme ai soldati. Noi ci siamo schiandati sulla barca di Navarro con tutto il tesoro e l'elicottero e dobbiamo impedire praticamente alla nave di salpare, cioè il tesoro non deve lasciare quest'isola perché non è maledetto, bensì all'interno c'è un virus che trasforma gli umani in semi zombie, Navarro lo vuole vendere al miglior offerente eccetera eccetera. Allora ho detto tutte queste cose ora perché mo' non ne ho il tempo visto che adesso dobbiamo cercare di non morire, Navarro è quello là con il cecchino, annaggia Santo Navarro, Navarro dove vai bastardo se ti piglio, Navarro se ti piglio che gli faccio se lo piglio, lo so io lo so Dove vai Navarro? Vigliacco dove scappi? Dove scappi? Bastardo ma mi ammazza tu? Vigliacco dove scappi? Dove scappi? Bastardo ma mi ammazza tu? Dove scappi? Dove scappi? Mannaggia non ho le granate che peccato che non ho le granate Dove scappi? Me la devi pagare? Hai quasi ammazzato Elena se non è morta, vieni qua Non puoi fugire ora! Questo vale anche per te, manco tu puoi fugire! Dove sei? No! Nooo! Nooo! So senza arma! Nooo! Nooo! Maledizione! Oddio, e come faccio? Ah, Navarro me la fai girare. Io ti ammazzo. Ma so senza arma. Guarda là, che bastardo. Di, 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 di. Ma lo voglio dire, amore. L'hai persa anche tu figlio di... No. No. Presto. No, no, molla l'arma, mollala. No. No. Manu. 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 Mamma. Allora, chiariamo una cosa. Tu, se ne vai, all'inverno. No. Tu, se ne vai, all'inverno. E dormi, per sempre. Maledetto. Oddio. Forza. Forza. Eh, viva. Ok, tutto ok. Nate. No. Attenzione. ahhh affanculo tu con tutto il tesoro peccato per il tesoro vabbè rimarrà qui per sempre sui fondali oddio che giornatina? già salva il mondo prima un passo il mare buona giornata tipo infatti è un peccato però non darsi una mani vuote oh beh sai sono riuscita a salvare una cosetta la neve tieni pensavo che l'avresti persa che l'ha ripreso grazie già voi due avete una strana idea di romanticismo sali è un classico wow hai un aspetto orribile dovresti vedere gli altri procuraci una barca abbiamo già una barca una grande barca questa mi piace di più wow ma l'estrondinario figlio di voi l'ho presa da un paio di pirelli che erano troppo morti per uccare beh proprio a mani vuote non se ne vanno mi dispiace che non hai avuto la tua storia non importa ci sarà un'altra occasione e ne ne vediamo ancora una puoi contarci disisaggiatte ed è finito allora non so voi ma a me questo gioco è piaciuto tantissimo mi ha veramente emozionato non è come tutti gli sparatutto che si trovano in circolazione insomma semplicemente bello epico tutto di positivo e niente di negativo a questo gioco da dire io vi saluto e ci vediamo prossimamente con i video del prossimo gioco che voi avete scelto grazie al sondaggio che sarà Harry Potter Ridonci della Morte parte 2 grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirmi fatemi sapere se vi è piaciuto noi ci vediamo prestissimo ciao a tutti ragazzi